il piatto, perché so voi chef quanto siete precisetti con i piatti vi ricordo anche il libro che ha appena pubblicato Raffaele Lenti uno chef a casa vostra, ci sono queste ricette qui? ce n'è qualcuna? qualche ricetta c'è sì qualcosa con fuoco c'è? sì sì, qualcosa c'è ecco un libro che ricordiamo aiuta tutte noi in cucina, vero? perché è un libro molto semplice, facile per tutte le occasioni per tutte le occasioni, no? allora ecco qui, questo è il nostro corpo che bello questo corpo grazie